sono le 14 e 19 del 20 dicembre 2022 mi trovo al comunico dei marzi località rimboschimento a circa mille metri di altezza bene il sole adesso sta per tramontare l'ultimo squiraglio di sole sta lì sopra prima che tramonte si vada adesso ecco qui tutti i pini distrutti prosegue qui quindi fra poco dovrà arrivarci ci arriva il sole si vede ma non so se arriva fin di sotto scavocco anche qui andiamo a fare un percorso ad ostacoli dispiace guarda 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 che è successo una strage il polmone verde del comunico dei marzi adesso per salire qui io sono un provetto so devo mettermi le mani qui è un po disagiato comunque se ci sono passate se ecco qui ma fammi scolcare anche qui più avanti il percorso per me è stato facile per gli altri ecco il sole la sopra proseguiamo da questa parte e sotto c'è tutta nebbia 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 che la giornata più freddolosa di quest'anno al comunico dei marzi ma il sole forse sta per tramontare anche qui sopra proseguo da questa parte ma qua piene chi è che peggio a Roma sta imprattata ecco a Mappodo sta imprattata qui ci vedono le capacità escursionistiche ma stia ma stia ma stia ma stia ma stia ma stia non